ciao a tutti raga benvenuti su un nuovo video di faxiedead stiamo vedendo la presentazione di di gran turismo e non so se oggi riesco a portarvi fortnite perché ci vuole aggiornamento di un bel questo è il trailer di questo bellissimo gioco veramente realissimo come un film è molto bello oggi non so forse magari sì magari no e mi sa di no gioco gioco a bros stars mi sa di no però ora vediamo un pochino com'è la situazione però mi sa di no mi sa che ho questo video e un altro video non vediamo veramente perché sennò c'è forte nel testo a carica allora andiamo in partita allora eeeh facciamo questo così mattino mattino presto mattino mattino presto macchina mi piace questo no non facciamo più sportiva questa qua mercedes e andiamo in partita allora ecco cosa fa vedere tutte le mini le mini particolari di questa macchina aspetta aspettate aspettate e allora partita iniziamo partenza andiamo aspetta aspetta da un botto che non ci gioco da un botto che non ci gioco non mi ricordo manco le come si fa all'andare allora allora aiutate ditemi se vi piace questo genere di video ditemelo perché allora andiamo andiamo e girare ho detto di girare in questa serie vi farò ridere un botto sul gran turismo mi farò ridere un botto un botto allora aiuto tutti gli altri aiuto ok vi prego mandate questo video ai vostri amici e vi prego di farli iscrivervi perché vi voglio tanto bene allora non so quali c'erano le live però penso boh se sto se non sto impegnato il fine settimana li faccio la faccio magari la faccio aiuto 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 ok abbiamo problemi oddio oh oddio 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 non ci giochiamo Se a voi fa freddo, scrivetelo nei commenti, ah giusto sono disattivati i commenti, ora non posso attivarli perchè sto cercando ancora per un po' di lasciarli disattivati perchè io voglio lasciarli disattivati, perchè ancora siamo nei primi video, non voglio che ci siano ancora commenti, poi vediamo che abbiamo un po' più iscritti, inizio a salutare le persone queste cose, vi prego mandatevele ai vostri amici perchè vi porterò, spero che vi piacciono i video che faccio, e niente, sto andando a me fino a qui, andiamo, andiamo. Io vi giuro che giro, è rotto sto collo, non so quanto dura, il video è intorno alla quindicina di minuti. Io le godo di non saltare la parte del trailer perchè è veramente, veramente bella, ti fa sentire proprio la sensazione realistica che a me piace molto. vi ricordo di vedere tutti i miei video eh, di attivare la campanellina così appena faccio un video, mi squilla il telefono e dice, eh andate a vedere il video di Foxy. Comunque voi siete la Family Dad. andate anche sul canale di mio amico Giuliano Marinelli, andate e seguitelo. Andatelo e seguitelo perchè è molto, molto bravo. aiuto, voglio vedere una cosa, siccome arriviamo sempre tanto ultimi, voglio vedere, se vi faccio vedere quando, quando si può entrare perchè cambiano le gomme, dove non mi ricordo più, vabbè, andiamo avanti. a posto, a posto, a postissimo, una cosa. scrivete ehm, quando attivarò i commenti. scrivete anche che, che giochi avete su Fortnite, queste cose qua. che giochi avete, se vi piace il botnet, se non vi piace più, se vi piace qualche altro gioco. o qualche altra cosa. vabbè, allora, mi ricordo di nuovo di iscrivervi, di attivare la campanellina e di lasciare like. e al prossimo video, raga! ciao! da Faxi è tutto! ciao! ciao! ciao!